Famosa per le sue caratterizzazioni di ragazza di provincia dal viso grazioso, in modi spicci e la voce nasale, Maria Pia Casillo è stata una delle caratteriste più valide e longeve della commedia all'italiana. Debutta giovanissima nel cinema ottenendo un immediato successo nel ruolo della giovane servetta, del vecchio professore nel drammatico Umberto Cinquecentesimo, 1952, di Vittorio De Sica, apprezzata per le sue doti di attrice brillante. Interpreta poi una serie di celebri commedie, come Pane, Amore e Fantasia, 1953, di Luigi Comencini, Il medico dei pazzi, 1954, di Mario Mattoli, insieme a Totò, è un americano a Roma, 1954, di Steno, nel ruolo della fidanzata di Alberto Sordi. Nonostante una fortunata esperienza in Francia, Teresa Rackin, 1953, la Casillo non riesce ad affrancarsi dai ruoli di comprimaria, cheppure interpreta con squisita vivacità. Vittorio De Sica lavorrà ancora nei film Stazione Termini, 1953, con Montgomery Clift e Jennifer Jones, Il giudizio universale, 1961. E lo chiameremo Andrea, 1972, verso la metà degli anni se Santa Maria Pia Casillo abbandona lo schermo, salvo sporadiche apparizioni, per dedicarsi alla famiglia. Ha sposato il grande doppiatore Giuseppe Rinaldi, e da questa unione nasce la figlia Francesca. Anche l'attrice, anche la Casillo si sarebbe dedicata saltuariamente al doppiaggio. Sua è la voce di Marina Vladi in giorni d'amore e di Stefania Sandrelli nel federale. Muore a Roma il 10 aprile 2012. Ha 76 anni.